registrazione video full hd a 60 fotogrammi per secondo realme 7 5g andiamo a effettuare uno zoom 4x in questo caso continuiamo ad avere una stabilizzazione ma lo zoom veramente perde tantissimo in qualità dell'immagine direi proprio di evitare di effettuare uno zoom con questa risoluzione se non al massimo al 2x che state visualizzando in questo momento il dispositivo 5g di realme è in grado di realizzare video in full hd a 30 e 60 fotogrammi per secondo e anche in 4k solo 30 fotogrammi vediamo una panchina ecologica un'altra panchina e diciamo finché non si tocca lo zoom la qualità dell'immagine sembra abbastanza buona per il costo del dispositivo realme 7 5g grazie a tutti